Urla, spentoni e rabbia. I parenti di una donna morta in ospedale hanno preso a schiaffi e calci due medici e messo a suo quadro un reparto. È accaduto all'ospedale di Bosco Trecase. Una donna era ricoverata da quattro giorni. Improvvisamente le sue condizioni sono peggiorate e ieri è deceduta. I parenti ritengono che si sia trattato di negligenza dei medici. È stata aperta un'inchiesta e disposta all'autopsia per accertare le cause della morte e le eventuali responsabilità.